Dopo più di tre mesi passati tra rosso e arancione, Prato torna a zona gialla. A dispetto del numero dei contagi che fanno della provincia pratese una delle peggiori in Italia, da lunedì si torna alla quasi normalità. Così ha deciso il presidente della regione Eugenio Gianni, che ha passato al sindaco Matteo Biffoni la gestione di eventuali focolai che dovessero insorgere. Tra chi si dice d'accordo e chi invece avrebbe preferito ancora prudenza per evitare il rischio di un nuovo lockdown o di un ulteriore peggioramento del numero dei contagi con tutte le conseguenze relative a ricoveri e decessi, è cominciato il conto alla rovescia per la ripartenza. Ecco cosa prevede la zona gialla, che sia chiaro mantiene il coprifuoco alle 22. Sempre vietati gli spostamenti tra le 22 e le 5, ci si potrà muovere liberamente tra regioni gialle ed è consentito in ambito regionale lo spostamento una sola volta al giorno e solo tra le 5 e le 22 di 4 persone esclusi minori e disabili conviventi. Si potrà pranzare, cenare al ristorante e consumare al bar. Dalle 5 alle 22 l'attività di ristorazione è infatti consentita, ma solo con tavoli all'aperto. Asporto consentito fino alle 22, per pranzi e cene al chiuso si dovrà aspettare il primo giugno. Negozi aperti senza limitazione. Potranno riaprire i musei, i cinema, i teatro, a patto che sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i presenti. La capienza massima consentita non potrà superare il 50% dei posti disponibili e comunque gli spettatori non potranno essere più di 500 al chiuso e più di 1000 all'aperto. Consentito lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Le palestre però dovranno aspettare il primo giugno, così come gli eventi di livello agonistico. A scuola la campanella suonerà per quasi tutti, limitazioni solo per gli studenti delle superiori, con il 70% che seguirà le elezioni in presenza.